Un grande passo per il primo film scritto da Tommaso Favagrossa, sceneggiatore di Casal Maggiore che si è buttato nell'avventura del suo primo lungometraggio dopo aver vinto con i corti sia a Torino che a Venezia. Classe 94, Tommaso si è diplomato all'Accademia del Cinema di Roma e ora con Patagonia, diretto da Simone Bozzelli, col quale Favagrossa, stretto, un sodalizio inscindibile e già pluripremiato, parteciperà al 76esimo Locarno Film Festival, uno dei più prestigiosi a livello cinematografico. Patagonia è ambientato in Abruzzo ed è il frutto di una storia di studio antropologico, uno spaccato di vita vera il cui risultato riconduce a temi imperituri quali l'amicizia, l'amore e la libertà. La storia narra di Iuri, ragazzo ventenne che vive con l'anziana zia una vita ovattata nel grembo di un piccolo paese abruzzese e che ha tutto il suo mondo. Ad una festa di compleanno incontra Agostino, animatore girovaco e incantatore di bambini che gli promette l'indipendenza di cui Iuri ancora non sapeva di aver bisogno, sognando la libertà, metaforicamente simboleggiata dalla Patagonia, i due si avventurano in un viaggio di autodeterminazione che si trasformerà in un delirio di controllo e prigionia, in una dipendenza che diventa senso d'appartenenza in una libertà che ha la sua ragione d'essere in uno spazio delimitato. Tommaso ha ammesso che aver visto per la prima volta in anteprima Patagonia su grande schermo è stato sconvolgente, un'emozione molto forte per lui e per tutti i suoi compagni di viaggio. distribuito da Wild Side, Vision Distribution, Rai Cinema e Sky, Patagonia potrebbe essere la sorpresa del Festival di Locarno e in ogni caso si appresti in settembre a conquistare la platea italiana e anche se, parlando di un giovane di Casal Maggiore, occorre ammettere di rischiare di essere un po' di parte, va altresì rimarcato che la scrittura di Tommaso sin qui non ha mai tradito.